e fuori subito brava brava bravissima ok ora entriamo dentro il cerchio e facciamo alto fermati bravissima facci una carezza fermala di nuovo e facci una carezza una carezza lì e una carezza dietro bravissima ecco qua bravissima brava brava ora laiana fa solo lo zigzag guarda te lo faccio vedere lì fino alla giù e poi maggiore guarda te lo faccio vedere